Il Balletto di Verona presenta il Gran Gala di Danza, con i primi ballerini del Teatro dell'Opera di Vienna, della Scala di Milano, del Balletto Nazionale di Cuba e del Teatro San Carlo di Napoli. Una serata all'insegna dell'eleganza accompagnata dall'orchestra diretta dal maestro Pietro Salvaggio. Sabato 30 gennaio alle 21 al Teatro Sociale di Mantova. Biglietti in vendita presso il teatro e su teatrosocialemantova.it